Il titolo è con la stessa passione. Questo pomeriggio alle ore 18 presso l'hotel Grazia Deboli verrà presentato il libro di Federico Conte. Il deputato osciente di Liberi Uguali con il giornalista Eugenio Verdini discuterà del suo ultimo lavoro. Ho voluto pubblicare in questo volume, dice Federico Conte, gli atti che documentano la mia attività in Parlamento nel corso della legislatura che si sta concludendo. Per rendere conto del lavoro svolto e per onorare il mandato che mi è stato affidato nel 2018 dai cittadini. Mi sono occupato dei problemi nazionali sempre curando e valorizzando la loro ricaduta nel mezzogiorno e sui nostri territori con riferimento al sistema produttivo, all'occupazione, all'ambiente e alla giustizia che consideri i quattro cardini di una politica riformista di ispirazione europea e mediterranea. Ne ho sostenuto la prospettiva nei dibattiti in Parlamento dove ho presentato oltre 100 interrogazioni, molte delle quali in aula con la formula del question time. Un'attività che vuole porre al centro del dibattito politico prosegue anche in questa fase che mi pare stenti a decolare al centro i problemi reali mentre si va qualificando giorno dopo giorno come comunicazione ad effetto a cura di questo o quella personalità nazionale per raccogliere il consenso. È questa la prima conseguenza della formazione delle liste a tavolino che non danno voce ai territori. Una delle motivazioni per cui ho rinunziato alla candidatura che mi era stata proposta e nel libro spiego il perché anche nei dettagli indicando le prospettive che intendo continuare a coltivare per un futuro che esprima le mie idee e gli interessi dei territori e dei più deboli. Lo farò da riformista con la stessa passione pur consapevole che per questa campagna elettorale sono cambiati simboli, storie e partiti.